La non curanza è l'arte di accedere a chi ti giudica male senza di sporcare male. Chi non ha provato il stesso dispiacere e lo stesso dolore tuo non ti riuscirà mai a capire. Chi vive bugie e falsità mentre l'arte rindavite, corrono e bannannanze, loro restano sempre rindagghiabili. Rindavite, la cosa che ci mancherà più assai quando non ci sta più è amare. Parla napoletana, la famiglia e gli amici, parla italiano che è conoscente e il suo silenzio che è il mio pariente. La miglia scuola romana è quella che ti pomperà e ti può raccontare una bicchierella. E volte si addopendano al diavolo quando fanno troppo male a un angelo. Finché ci stanno i genitori che uscì e i mari e i figli, rende a questo mondo non caglia mai niente. Quando la gente si facesse sapere la terra in giro per riportare a casa chi non c'è più. C'è chi tiene la mamma, il padre, i figli, la famiglia. C'è chi tiene gli amici, i conoscenti, i pari. E poi c'è sta una bicchierella che non dè gli amici. È giusto secondo voi? Ciao!